Mamma, ma dovete? Tutta bella, elegante, covestite che va regalando la Marchesa e le ciabatte! La Marchesa è emanata e ce l'ha in va! Non è la mia vita! E le scarpe, non metterlo! È la mia vita! Beneficenza e divertimento in scena al Teatro Signorelli di Cortona con Il Polvarone e infatti in programma per venerdì 4 gennaio alle 21 lo spettacolo della Compagnia Teatrale Popolare è Natale, non badare. Una serata d'offerta libera in favore di Casa Tevenin, la realtà aretina che si occupa da oltre un secolo di ragazze madri e ragazze minorenni in difficoltà. Propone la vigilia di Natale in una casa del centro storico dove si ritrovano, come nella nostra tradizione, la famiglia un po' allargata, i nipoti, i soci e quant'altro e si ricrea una situazione che la gente poi riconosce, no? Nel senso sono quei rapporti che vengono rinsaldati in quel giorno ma si trascinano dietro vecchie polemiche, vecchie rancori. Giochiamo molto, la mia moglie con la sceneggiatura che ha fatto gioca molto su questa cosa e è riuscito alla grande perché abbiamo fatto la prima al Pedral che è andato benissimo, tutto esaurito e tramite Sandro con il Tevenin noi abbiamo aderito a questa iniziativa, con il Tevenin abbiamo la lunga storia, abbiamo già fatto tante altre cose perché c'era oltretutto l'opportunità di andare in un parco scenico prestigioso come il Signorelli quindi per noi è un'esperienza, come dire, nuova e nello stesso tempo stimolante. Domenica 6 gennaio un altro appuntamento sempre in favore di Casa Tevenin. In occasione dell'Epifania in via Sassoverde arriverà infatti la Befana del Poliziotto. Grazie all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato che ha voluto organizzare un'altra iniziativa in nostro favore quindi doneranno le calze alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi e sarà un momento di festa per tutti.